Allora, ciò che io ho sentito mi ha sconvolto lo schema. Comunque, insomma, sono cose veramente interessanti. Grazie. Quindi il mio schema era ripercorrere un po' quel che è stato accennato per la guerra dei trent'anni, ripercorrere alcuni momenti salienti della storia del cristianesimo per vedere dove la religione si era coniugata con la violenza in un modo specifico. Il modo specifico era, quello che io definirei in termini molto generali, non solo l'uso della violenza, ma la sacralizzazione della violenza. E qui a questo riguardo la sacralizzazione della violenza, la violenza sacra, cioè quel che noi chiamiamo con altri termini la guerra santa, la santificazione. A questo riguardo dirò qualcosa alla fine, perché secondo me questo è un conto che noi possiamo rendere abbastanza agilmente all'interno, specificamente della nostra cultura italiana, che ha in un grande politico il fautore politico della guerra santa. E poi dirò perché. Mi sono chiesto, sollecitato dai due interventi, perché e dove la religione ha di suo, dal suo interno, diciamo così, ha una breccia che si apre sulla violenza, per cui si rende disponibile a quella cosa che dicevo, cioè la guerra santa, non semplicemente l'uso della violenza. Beh, mi pare la risposta che quasi ovviamente viene, mi induceva appunto l'insieme delle riflessioni che sentivo, è il fatto che il credente, i credenti, tra virgolette, pretendono, tra virgolette, credono, sono convinti di comunicare con l'assoluto e che l'assoluto comunichi con loro. Questo è il punto. Ritengono di poter, ad esempio, una delle cose che noi facciamo più comunemente, all'interno della nostra esperienza religiosa, noi facciamo un gesto che di per sé è di un'enorme sorpresa, cioè preghiamo. E nessuno vede niente, eppure noi vediamo. Interiormente noi riteniamo che abbiamo un canale di comunicazione che siamo ascoltati. Questo collegamento con l'assoluto è il nervo e la ferita. Proprio per questo le religioni dovrebbero educare all'estrema cautela, perché giocano su un terreno che è estremamente delicato. Perché qual è la breccia che si apre sulla violenza? Il fatto è che chi ha questa comunicazione con l'assoluto si faccia assoluto, lui. E se non si fa assoluto, lui, assolutizza qualcos'altro. Perché ragiona con questa logica di rapporto assoluto con le cose. Mentre invece io ritengo che laddove nel corso dei secoli e anche oggi si manifesta un atteggiamento alternativo rispetto a ciò è quando uno si desimpossessa dell'assoluto e si pone in una relazione di non possesso dell'assoluto. Questo credo che nel profondo sia stato insegnato attraverso la critica radicale in tutti i tempi, più o meno diretta qua o là, all'idolatria, che poi è questo, cioè farsi Dio. Ma tipico della religione, la sua breccia, è che fa Dio a tante cose. La critica ai falsi dei, che si possono costruire a livello personale, a livello di comunità, a livello collettivo o di setta, è un'insidia dentro la tradizione religiosa o dentro la religione. Poi, uno dei motivi per cui la religione può diventare la sorgente e la breccia è che la religione si occupa di cose, adoperiamo un termine mezzo filosofico, cioè si occupa di cose ultime, estreme. Quali? la coscienza. Si occupa della coscienza, che è l'energia, la tecnologia più possente che mai esista dal punto di vista delle relazioni. La coscienza. Vuole arrivare a quella fonte lì e vuole far riferimento a quella fonte lì. Quindi, ad esempio, se uno volesse fare un paragone così puramente folclorico sui poteri che si esercitavano, poniamo nel Medioevo, il feudatario salve qualche impazzito locale, non si interessava, bastava che ci fosse l'ubbidienza ed era soddisfatto. Un'autorità che... Mentre invece, passando ad una forma, direi, degenerata di religione, di breccia totale, alcune ideologie, ad esempio, che ci stanno alle spalle, hanno mirato a dominare le coscienze. E' un fenomeno tipicamente della modernità. Le ideologie moderne hanno mirato a conquistare le coscienze attraverso sistemi che a noi farebbero ridere, perché pensavano di farlo anche con strumenti scientifici di carattere invasivo. Ma il principio era che non si accontentavano che tu non ti opponessi, no? Tu dovevi diventare dominato nella coscienza. Le ideologie hanno tentato di dominare le coscienze. Hanno fatto quell'operazione a breccia come ideologia e non come religione. Ma la religione può correre questo rischio. può correre il rischio di impossessarsi questa volta delle coscienze, di puntare a impossessarsi delle coscienze, quindi a non togliersi le scarpe di fronte al profondo della persona, che dovrebbe essere invece la sorgente. E poi si occupano, come cose ultime, la fede si occupa addirittura, le tradizioni religiose si occupano addirittura dell'oltre della vita, altro che storie. L'aldilà, chiamiamolo come vogliamo, chi mi ha preceduto sa benissimo che importanza ha questo, del non reincarnarsi, al di là di come viene camuffato questo, lo sai benissimo, no? che hanno fatto questo, facciamo un'altra esperienza di vita, ci reincarniamo e viva. Caro mio, il problema è di non reincarnarsi, altro che di non reincarnarsi, caro mio. E quindi la preoccupazione dell'oltre della vita è tipica delle tradizioni religiose. E su questo, di nuovo, possono nascere delle enormi sorgive di identificazioni che merita profondo rispetto, ma anche delle brecce di dominazione proprio dell'aldilà. Magari sarà con delle teorie che si danno per sicuro. Di noi siamo un fenomeno di non spossessamento di fronte alla grandezza del problema. e qui si potrebbero poi anche analizzare, nel corso delle varie epoche, fenomeni che sono più macro-sociali, perché quel che ho toccato io adesso potrebbe interessare me e te, anche ciascuno di noi qui, ma non ha dietro di sé, così palese, un progetto di visione politica. Per noi abbiamo avuto delle grandi utopie politiche in cui la breccia e la sorgiva sono emerse. Ad esempio, tantissime soluzioni sinfoniche tra la religione e la vita politica. Sinfoniche voleva dire che l'ideale era giungere ad un compromesso profondo, radicale. Dovevano essere tra di loro conciliate. Qui anche di nuovo si può svolgere la cosa in due mandati, no? Uno può conciliare nel senso che ciascuno mantiene, ecco qui la laicità verrebbe fuori, no? Veramente. Una laicità che viene accettato dall'interno della tradizione religiosa, non semplicemente viene sopportato, ma accettato, e dal punto di vista della laicità non viene visto come mosca cocchiera delle fedi altrui. Soprattutto credendo che sia un bellissimo modo di gestire le fedi altrui quando uno non ce n'ha nessuno. Come capita. Allora, comunque, queste soluzioni sinfoniche hanno dato però a volte degli esiti, hanno sacralizzato il potere politico lungo la storia in un modo impressionante in alcuni casi. Io ho presente, mi cito sempre questo esempio perché è così vicino, Benché sia già passato più di un secolo. Un secolo un secolo e tre anni. Lo zar di tutte le russie quando passava in rassegna le truppe, le passava in rassegna con le truppe in ginocchio e lui con l'icona. Caro mio! ed è diventato poi quasi una tradizione il fatto che bisognava, e questo è capitato nell'ambito protestante, cattolico, da tutte le parti, restando solo l'esperienza cristiana, ma figuriamoci in altre parti si sarebbero delle cose analoghe da tirare fuori. Le soluzioni sinfoniche quando divengono breccia sono una espansa sacralizzazione reciproca, non invece un rapporto ciascuno critico al suo posto rispetto all'altro. Poi un altro dei fenomeni è che si è radicato nel corso della storia sul concetto di religione vera, la verità della religione, la verità di una dottrina, cioè la verità che diviene motivo di pretesa del privilegio e del diritto diverso, si potrebbe dire più che privilegio, diritto diverso, differenziale. Per cui siccome io ritengo di avere la verità, francamente, io ritengo che chiunque sia credente non crederebbe se non crede che sia la verità, però farlo diventare non ci crederebbe. se è onesto. Un credente deve credere altrimenti come quando certe volte si immagina che ci può essere un bel incontro quando uno non ha una fede incontrarsi. No, non è corretto questo. È corretto che tu sia credente con convinzione, però attenzione che su questo terreno non devi avanzare la pretesa di essere ecco qui il pungolo da 700 in poi che è stato formidabile ma che è all'origine parla del cristianesimo rispetto a non so poniamo le castre, eccetera, è l'uguaglianza. Diciamo, il diritto, la pretesa di verità non deve mai infrangere l'uguaglianza. Deve mai perdere di vista che si rimane uguale di fronte non a me ma di fronte a Dio e conseguentemente anche a me. io dovesse concludere il mio intervento direi sollecitato un po' da quello che ho anche sentito direi questo che alla radice di ogni fede sta la convinzione che ciò in cui si crede sia un bene. non è poco perché sapete che specialmente nel nostro occidente è stato detto e pensato che in sé la fede era un male con tutte le conseguenze del caso è stato detto e pensato che la fede era male e dico allora che partendo da questo però ecco che è un bene assoluto non comunque disponibile ecco io direi questo non è comunque disponibile è un bene che richiede tanta più cautela quanto più si ritiene che sia un bene allora adesso vengo a quel discorso che dicevo molto rapido e che mi piace ripetere di tanto in tanto perché ritengo che sia un bel riferimento anche alla nostra cultura italiana sentite ripeto perché lo conoscete il ragionamento di Machiavelli Machiavelli qui non ho detto un'altra delle brecce sorgive cioè la diciamo la tendenza a rivestire di assoluto altre cose che non dio ad esempio qualche male qualche pericolo qualche cosa che viene subito il male assoluto la nazione la patria la fede allora dunque Machiavelli in condizioni in cui si era in quel 500 in cui l'Italia aveva una superiorità almeno in alcuni settori Machiavelli era anche uno che studiava l'arte militare aveva una superiorità tecnologica rispetto ad altri stati assoluti che erano fondamenti quelli che si stavano formando la Francia la Spagna l'impero asburgico e l'Italia che pure aveva questo tipo di superiorità però essendo divisa in staterelli non era in grado di reggere di lagare di questi stati assoluti che penetravano come un colabrodo in Italia e viene fuori sapete comunque l'opera il principe in cui postula che di fronte a questa sconnessione dell'Italia occorreva che ci fosse una forza capace di creare anche per l'Italia quella compattezza statuale che avrebbe certamente consentito di resistere altro che a Carlo VIII allora per fare questo Machiavelli ecco qui siamo sul punto per fare questo Machiavelli ritiene che questo sia un compito talmente grande e qui è dopo la parola che ho usato prima assoluto che se mai qualcuno sarà in grado di prendere questo compito e lui non immaginava che se ne fosse uno e questo potrà permettersi una serie di cose primo mentire secondo uccidere terzo rubare quarto usare la religione nel senso che poteva far vedere che credeva se rendeva e non credere se non rendeva la definizione di questo accorgimento di Machiavelli mentale di questi marchi ingegno mentale di Machiavelli è stato spesso semplificato con quella frase corrente in cui si dice che il fine giustifica i mezzi non è vero Machiavelli non era così scemo non ha detto il fine giustifica i mezzi ha detto un'altra cosa ha detto che il fine alto diviene assoluto e santifica anche i mezzi iniqui quello è il suo ragionamento per cui quell'uccidere diviene una qualità positiva diviene positivo è la guerra giusta in senso che siccome la causa che per cui tu combatti è assoluta beatifica tutto quello che capita lì in mezzo e detabuizza qualunque cosa anzi la rende santa se raggiunge il fine noi sappiamo che la risposta a questo continua a rimanere assolutamente valida e qual è la risposta molto semplice non è vero che il fine alto santifica i mezzi iniqui ma i mezzi iniqui inquinano il fine alto grazie 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 grazie